Piccole magie, come questo. Uno, due, tre! Ciao a tutti dai più grandi e più piccini! Io sono Elisabeth e nel video di oggi vi farò vedere delle piccole magie e delle battute comiche! Iniziamo subito! Ma prima di iniziare il video non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. E seguitemi anche su TikTok, Instagram e sulla mia pagina Facebook. Troverete tutti i miei nomi qui sotto nel link della descrizione. E lasciate anche tanti pollicioni in su! Ora iniziamo! Sì! Ehi! Sapete qual è il colmo per un mango? Lo sapete? No? Mango io! Mettiamoci la sciarpa! Togliamo la treccia, così, 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 così. Togliamo anche la treccia da qua però c'è un po' di caldo, vabbè la togliamo. Cosa fa un chicco di caffè nella doccia? Si lavazza! Ora fate come me! Ta-dan! 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 Mamma, hai visto il blackout di ieri sera? No, era tutto buio! Cosa fa una lumacca sul giornale? Striscia la notizia! Ora ricopiatemi! Uno, due, tre... Wow! Oppure questo? C'è un altro modo. Ta-dan! Cosa fa un cammello sul budino? Attraversa il dessert. Ta-dan! Ma questa la sapete! Cosa fa una patatina in chiesa? Prega San Carlo! Ora vi faccio vedere come attraverserà questo tovagliolo il telefono. Guardate! Oh, e non è bucato! Sapete qual è il colmo per un sindaco avere la testa fuori dal comune? Da-da-da-da! Ieri ho dormito su un mobile. Era comodino. Sapete qual è il colmo per una tartaruga? Chiamarsi Valentina. Va-lentina! E ora assaggiamo questa penna! Cosa fa uno sputo nelle scale? Saliva! Sapete qual è il colmo per il re dei nani? Essere chiamato altezza. Cosa dice una mela a una pera? Pesca! Tutta frutta! E ora vi faccio vedere come questo elastico passerà da queste due dita a queste due dita. Allora, mettiamo l'elastico così. Poi, tiriamo, chiudiamo il pugno e... 3, 2, 1... Ta-da! Qui è sepolto Napoleone. Non tutto. Solo buona parte. La figlia stufa scappa di casa. E i genitori muoiono di freddo. E ora farò volare questa cannuccia. Ok. Oddio! Sta volando veramente! Tanto, tanto, tanto. Ho un divano letto. E uno ancora da leggere. Cosa ci fa una tv nel mare? Vai in onda! Oh, che bello! Guardate! Oh mio Dio, cosa... Cosa c'era lì? Aiutami! Allora, poi... Ta-da! Sapete perché non uso camice di lino? Perché il lino non me le presta. Una mela marcia. L'altra cammina. Sono andata al cinema e ho pagato di meno il biglietto. Perché il finale era scontato. Il mio gatto sta sempre sulla finestra. È un persiano. Dove ascoltano la musica ilama? Su Spotify. E cosa fai il cotto e il crudo su YouTube? Duetti di prosciutto. E questo è tutto. Siamo arrivati alla conclusione del video. Vi hanno fatto ridere le mie battute? E vi hanno stupito le mie magie? Comunque, al prossimo video. Tanti abbracci! Tanti abbracci! Grazie a tutti